Buona visione da Strada del Vino e dei Sapori del Trentino Buongiorno a tutti, sono Alessandro Poli e con mia moglie Bertha gestiamo la nostra piccola azienda un'azienda di agricola e distilleria Francesco Poli e Sottanassenza la nostra azienda è un'azienda di ciclo completo con 6 e mezzo di vigneto con appunto la cantina e anche l'anticola distilleria dove distiliamo la nostra vignaccia ma anche vignaccia di altre realtà i nostri vigneti sono tutti cultivati per me da Perchiani, agricoltura biologica e biodinamica dove la varietà più importante è la Noseola la Noseola è l'unica varietà storica che porta una torrentina frutto bianco da cui appunto nasce il Vino Noseola ma anche dopo un lungo appassimento delle uve per 6 mesi sui graticci in un apposito appassitorio il Vino Santo Trentino che è un po' l'emblema del nostro territorio siamo sempre disponibili per una visita appunto ai nostri vigneti e al nostro lambico o appassitorio chiaramente in autunno, inverno, in stagione questo è il nostro locale vendita vi aspettiamo per assuntare i nostri pubblici per la vendita a Cristo arrivederci arrivederci da Strada del Vino e dei Sapori del Trentino езda arrivederci preghi qua Grazie.